Io da quando sono arrivato abbiamo fatto già una settimana leggera, poi le altre due settimane abbiamo lavorato un po' tanto. Io mi sono piaciuto tantissimo perché comunque i lavori che facciamo sono lavori che aiutano, che ti fanno crescere molto fisicamente. Poi è vero che quando fai una stagione intera, sei mesi o due anni con Zeman, sicuramente quando esci da qui da Pescarati sei una bestia. Quindi io da quando sono arrivato qui mi sono piaciuto tantissimo. Per dire cosa manca alla squadra non sono io che devo dirlo, più il mister che lo deve dire, che lo deve decidere e poi correggere cosa non va bene in campo. Io comunque queste tre partite ho visto una grande squadra, una squadra di qualità e anche di mentalità. Poi ci sono anche tantissime partite, quindi vediamo come procederà. Io comunque per sabato mi faccio trovare il punto, poi la scelta è il mister che decide.